L'App Store accoglie milioni di applicazioni, ed alcune di queste sono delle vere e proprie gemme nascoste. Quest'oggi ne scopriamo 5 davvero incredibili, spaziando tra sfondi, intelligenza artificiale e tanto altro. Voi mettetevi comodi, noi lanciamo la sigla ed iniziamo! L'intelligenza artificiale sta crescendo in maniera esponenziale ed è capace di integrarsi perfettamente in ogni ambito della nostra quotidianità. Quest'oggi ne vediamo un utilizzo un po' alternativo, dedicato alla generazione degli sfondi. Signore e signori, vi presento AI Wall Art e adesso ne vediamo tutti i segreti. Credo sia opportuno partire dalla qualità degli sfondi, che è davvero lodevole. E non mi riferisco soltanto alla risoluzione in sé, quanto più all'originalità degli stessi. Le categorie offerte sono tantissime, dai pattern geometrici agli sfondi astratti, dai paesaggi ai supereroi. In altre parole, avrete l'imbarazzo della scelta, ve lo assicuro. A semplificarvi la vita ci pensano le collezioni, che altro non sono che semplici categorie tematiche. Così andrete a colpo sicuro, scegliendo tra gli stili che più si addicano ai vostri gusti. Siete così indecisi da non sapere cosa scegliere? Beh, potete sempre affidarvi alla funzione Random, che come suggerito dal nome, proporrà sfondi casuali attingendo da tutte le categorie. Provatela, non ne rimarrete delusi. Tutti gli sfondi potranno essere ulteriormente personalizzati a vostro piacimento, merito dell'opzione chiamata Remix. Sarà quindi possibile modificare tinte e colori, agire su luminosità e contrasto, e pensate addirittura aggiungere un effetto gaussiana. In altre parole, per riassumere, sarete voi ad avere il controllo, e potrete personalizzare lo sfondo su misura per voi, o del vostro iPhone, che dir si voglia. Come intuibile, la versione Pro garantisce l'accesso agli sfondi premium, nonché a tutte le collezioni che verranno rilasciate in futuro. Sono necessari 6,99€ nel caso dell'abbonamento annuale, che diventano 9,99€ per la licenza Lifetime. Da intendersi come una tantum, una volta per tutte, abbiamo scoperto come l'AI possa essere molto utile per la generazione degli sfondi. Adesso però dobbiamo ampliare le nostre vedute, vedere un quadro più generale e più complesso ancora. In questo compito ci facciamo aiutare da Perplexity AI, servizio a dir poco clamoroso e su cui c'è tantissimo da raccontare. Qualunque informazione, curiosità, richiesta o dubbio, sarà sufficiente domandarla Perplexity. In appena qualche secondo l'app ci fornirà una risposta, con tanto di riferimenti alle varie fonti utilizzate, che siano siti web, video YouTube, riviste accademiche e tanto altro. Tutte le fonti sono cliccabili e consultabili, così che eventualmente possiate approfondire le singole voci. Le risposte fornite sono più che soddisfacenti, con un livello di dettaglio e di approfondimento davvero impeccabile. Peraltro, in base alla domanda posta, sarà visualizzato in alto un glossario contenente tutte le informazioni principali, con tanto di dati tecnici, date, eventi degni di nota e così via discorrendo. Una volta fornita la risposta, potremo chiedere ulteriori approfondimenti, sia scrivendole a mano, sia affidandoci alle domande correlate, suggerite in modo contestuale e, devo dire, molto intelligente. Nel caso in cui vogliate ottenere proprio il massimo del massimo, la creme della creme, beh, potete sfruttare l'opzione PRO, che andrà ad analizzare più in dettaglio le varie informazioni, attingendo da un database di fonti ancora più ampio. Occhio però a non eccedere. La versione gratuita viene limitata a 5 ricerche PRO ogni 4 ore. La sezione Discover proporrà alcuni degli argomenti più cercati ed interessanti del momento, spaziando peraltro anche tra categorie molto differenti tra loro. E devo ammetterlo, in queste settimane di utilizzo ne sono rimasto davvero contentissimo, perché ho avuto la fortuna di approfondire degli argomenti molto interessanti, che personalmente non avrei mai cercato io in prima persona. La cronologia di tutte le domande sarà contenuta nella libreria personale, a cui potremo cedere in qualunque momento per cercare o ritrovare alcune informazioni. Come spesso succede, soprattutto per questo tipo di servizi, c'è una versione PRO, che tra le peculiarità offre oltre 300 ricerche PRO al giorno, sblocca la compatibilità con GPT-4 Turbo, supporta la ricerca tramite immagini e tantissimo altro ancora. Si parte dai 22€ per il piano mensile, che diventano 229€ nel caso di fatturazione annuale. Non è pochissimo, siamo d'accordo, ma d'altronde è rivolto ad una nicchia di utenti ben specifica. La versione gratuita in sé è già più che sufficiente per il 99.9% periodico degli utenti. Avete la mia parola. Alt, piccola introduzione pubblicitaria sponsorizzata da Memedismo, il sottoscritto, per ricordarvi di lasciare un mi piace, di commentare qui sotto e di iscrivervi al canale attivando la campanellina e di condividere il video con chiunque abbia un iPhone. Ringrazio in anticipo di cuore chiunque avrà il piacere di farlo e noi continuiamo. Abbiamo parlato spesso di quanto sia importante consolidare nuove abitudini, pur non essendo proprio sempre semplicissimo, diciamo così. Ci vuole determinazione, costanza e tanta forza di volontà. Per trovare la giusta motivazione scaricate HabitKit, servizio incredibile di cui non potrete più fare a meno. La grafica, e qui mi rivolgo a tutti gli sviluppatori all'ascolto, si ispira in modo evidente a GitHub, con uno sviluppo orizzontale ed il richiamo agli iconici quadratini. Personalmente mi piace moltissimo. Quando si cerca di costruire nuove abitudini, entra in gioco una variabile fondamentale, che è la frequenza. HabitKit ci permette di impostare un traguardo, che potrà essere con cadenza quotidiana, settimanale o mensile, e grazie all'opzione dedicata potremo anche specificare quante volte ripetere l'attività in quel determinato lasso di tempo. La funzione ProMemoria diventerà salvavita per tutti gli smemorati, come il sottoscritto. Una volta impostati la data e l'ora in cui svolgere l'attività, l'app vi avviserà in automatico con una notifica. Una volta terminata l'attività, ecco che potremo contrassegnarla come completata, così che venga salvata e visualizzata all'interno del grafico. Quanti più quadratini completerete, quanto più sarete stati bravi e diligenti. Gli strumenti offerti nella versione gratuita sono già più che sufficienti non solo per iniziare nuove abitudini, ma anche per mantenerle nel corso del tempo. C'è tutto ed è fatto benissimo. Tuttavia, qualora vogliate fare il salto di qualità, sappiate che esiste una versione Pro, che permette l'inserimento di un numero illimitato di abitudini, sblocca alcuni grafici e statistiche interessanti, ed integra il supporto ad alcuni widget davvero clamorosi. Ultimo, ma non per importanza, sostiene il duro lavoro di un developer indipendente. Il costo previsto è di 99 centesimi al mese, che diventano 5,99 euro per la formula annuale. Nel caso in cui vogliate proprio togliervi il pensiero, considerate l'acquisto della licenza Lifetime, proposta ad un costo di 17,99 euro, da intendersi come una tantum una volta per tutte. Ci sono situazioni in cui l'app ufficiale della calcolatrice proprio non basta, non c'è bisogno di disperarsi però. Ad aiutarci ci penserà Acute Calculator, a cui non posso che fare tanti complimenti. Partiamo da un presupposto importante. Acute è una calcolatrice, e questo significa che potrete utilizzarla per svolgere semplici calcoli matematici. Chi mai l'avrebbe letto, eh? Nessuno. Ve lo dico io, infatti. Già in questo, comunque, ci sono alcuni vantaggi rispetto all'app ufficiale. Primo, c'è il tasto indietro, utile per correggere eventuali errori fatti durante la digitazione. Anche la calcolatrice ufficiale lo permette, ma solo tramite gesture. E ahimè, non tutti la conoscono. Secondo, ancora più importante, troveremo la cronologia dei calcoli. Funzione fondamentale e non presente nell'app ufficiale. Qui su Acute Calculator c'è come, e va una meraviglia. Ma veniamo alla parte interessante, ovvero a tutte quelle funzioni di calcolo davvero esclusive. Tra le tante vi cito la possibilità di aggiungere delle frazioni, il valore assoluto, e addirittura logaritmi specificandone la base. La vera chicca, però, arriva adesso. Acute sarà capace di realizzare grafici di funzioni, anche molto complesse. Così avrete modo di paragonare e confrontare il vostro risultato con la soluzione in uno schiocco di dita, senza dover ricorrere a servizi o app di terze parti. Qui è tutto processato in app, ed è meraviglioso. Concludiamo parlando delle cosiddette variabili, ovvero delle lettere a cui potremo assegnare dei valori nello specifico. Ed è facile capire perché siano comodi. Potendo associare numeri e valori che utilizziamo molto frequentemente, potremo richiamare questi dati in uno schiocco di dita, senza doverli ripetere e riscrivere di volta in volta. Se tutto questo ancora non fosse sufficiente per convincervi, innanzitutto complimenti perché vuol dire che siete molto esigenti. Ma c'è ancora un'ultima chicca che mi son tenuto come ciliegina sulla torta. Acute Calculator è disponibile anche per iPad, con le stesse incredibili funzionalità. Insomma, la calcolatrice ha proda anche sui grandi schermi, ed è un traguardo da celebrare assolutamente, perché dal day one l'iPad non ha mai avuto un'app calcolatrice ufficiale. Non si sa perché, non facciamoci troppe domande, lo diamo per assodato e per buono. Ci pensa finalmente Acute Calculator molti anni dopo, con un servizio fotonico e pazzesco. Chiunque voglia sfruttare il massimo potenziale, può considerare l'acquisto della versione Plus, che supporta addirittura integrali e derivate, sblocca tutti i temi colore per una maggiore personalizzazione, supporta un numero maggiore di variabili e tanto altro ancora. Oltre a tutto questo, supporterete l'incredibile lavoro di un developer indipendente, di cui ho avuto la fortuna di provare un paio di altre app, che ho consigliato peraltro anche nei precedenti video delle migliori applicazioni. Ci tengo davvero a fare i miei più sentiti complimenti, perché applicazioni simili certamente non capitano tutti i giorni. Il costo previsto è di 7,99 euro, da intendersi come una tantum una volta per tutte. La pagate ed è vostra, senza alcun vincolo di abbonamento. Il nostro pianeta pullula di posti meravigliosi, anche se spesso non è così semplice scoprirli. Ma tranquilli, problema risolto. Il merito va ad Atlas Obscura, che è un vero e proprio gioiello di app. Una volta cercata una località nello specifico, l'app mostrerà sulla mappa tutti i punti di interesse aggiunti nel corso del tempo, e potremo spostarci tra l'uno e l'altro per consultarli tutti. Tutte le schede saranno complete di descrizione, spesso arricchita con alcune informazioni ed aneddoti interessanti, così quando andremo a visitare l'attrazione, potremo vivere un'esperienza più autentica e consapevole. E per non farci mancare proprio niente, potremo anche consultare una galleria di immagini scattate dagli utenti, giusto per farci un'idea. Le attrazioni non sono tutte uguali. Alcune sono legate all'arte, altre all'architettura. Alcune hanno una matrice più storica, mentre altre sono immerse nella natura. Per fortuna potremo sfruttare alcuni filtri dedicati, che andranno a mostrare sulla mappa soltanto i luoghi di interesse appartenenti alle categorie selezionate. Se un punto di interesse ha suscitato la vostra curiosità, potrete contrassegnarlo con l'opzione Want to go, che aggiungerà la location all'interno di una lista dedicata. E non è tutto! Potremo anche creare delle liste personalizzate, particolarmente utili ed efficaci in fase di programmazione dei viaggi. In questo modo tutte le location saranno salvate ed organizzate in un elenco dedicato ed andremo ad occhi chiusi, senza perdere tempo per cercarle di volta in volta. Mai come in questo caso è la community a fare la differenza. Una volta visitata una location, potremo contribuire aggiungendo nuove immagini, aggiornando la descrizione con ulteriori informazioni o ancora aggiungere consigli per i prossimi visitatori. La cosa incredibile è che Atlas Obscura sia totalmente gratuita, ulteriore motivo in più per scaricarla immediatamente. Ma amici e amici miei, siamo giunti al termine di questo video. Io mi auguro di cuore che questa selezione di app vi sia piaciuta e vi ricordo come sempre che un like, un commento qui sotto, un'iscrizione attivando la campanellina ed una condivisione sono gesti gratuiti nonché apprezzatissimi. E ringrazio di cuore in anticipo chiunque avrà il piacere di farlo. Noi come sempre ci diamo appuntamento nei prossimi giorni e nelle prossime settimane con nuovi contenuti fotonici e pazzeschi, lo sapete già. Stay tuned e alla prossima. Ciao! Ciao!